Inquinamento idrico nella zona Talafuni, chiusa a inferno. Il sindaco Giuseppe Nicosia nel pomeriggio di oggi ha emanato un'ordinanza per vetare l'uso dell'acqua distribuita dalla rete comunale nelle aree comprese tra via Cristofolo Colombo, Neghelli, Marzabotto, Virgilio Lavoro e Cacciatore delle Alpi. L'ufficio Acquedotti del Comune ha riscontrato un inquinamento dell'acqua della condotta cittadina e i tecnici sono al lavoro per individuare la causa e risolvere il problema. L'assessore all'ambiente Filippo Cavallo fa sapere che, oltre al suddetto quadrilatero, sono interessate anche le vie Concetto Marchese della Cate e Bologna. La natura dell'inquinamento è ancora sconosciuta. Ieri hanno effettuato diversi prelievi già consegnati ad una ditta di comiso che sta analizzando i campioni e domani dovrebbero fornire primi risultati sulla natura del fenomeno. Nel frattempo è stata predisposta un'apposita ordinanza. L'assessore Cavallo invita i residenti della zona a non utilizzare l'acqua corrente e a chiudere le stere cinesche d'ingresso dell'acqua. Consigliamo, aggiunge Cavallo, altresì di svuotare i serbatoi e le cisterne e di disinfettarli con cloro o varecchina. In attesa di risolvere il problema, il Comune si sta attrezzando con l'ausilio dell'AMIU per garantire il servizio di rifornimento con le autobotti 24 ore su 24. Le richieste vanno effettuate al numero verde dell'AMIU. L'ufficio Acquedotto sta organizzando turni di lavoro straordinari per fronteggiare al meglio l'emergenza.